salve sono eduardo priori e in questo video che ho realizzato per conto di proel tramite l'associazione chiamate noi parlerò dell'interazione tra i software di progettazione e quelli di misura dal punto di vista dell'applicazione dal vivo diciamo che abbiamo realizzato il progetto migliore possibile siamo arrivati sul campo abbiamo verificato tutti i dati abbiamo corretto quelli che non corrispondevano e quindi l'installazione è andata liscia come l'olio siamo campioni nell'utilizzo dei software di misura e pertanto niente dovrebbe andare storto dico bene ma effettivamente invece ancora molti parametri sono da verificare il primo ancora prima di cominciare a emanare suono sarebbe il caso di verificare i nostri punti virtuali di misurazione già che abbiamo verificato le misure della location vedere che siano congrui rispetto all'impianto ai tratti di impianto che devono coprire l'area prevista poi un ascolto anche a volume molto basso dell'impianto in quel punto non ottimizzato ma installato correttamente aiuta a comprendere se effettivamente questi punti di misurazione sono adeguati in secondo luogo ricordiamoci di marcarli in modo da poter andare a posizionare effettivamente i nostri microfoni di misura nel punto virtuale che abbiamo previsto e quindi ottenere dati congrui e corretti per l'ottimizzazione del nostro impianto a proposito di posizioni dei microfoni di misura ricordiamoci che un microfono posizionato per equalizzare può anzi facilmente non è in posizione adatta per allineare e viceversa quindi perdere qualche minuto per andare a posizionare correttamente un microfono può far salvare diversi minuti diverse decine di minuti di misurazioni poi non comparabili perché falsate all'origine ed a proposito di misurazioni falsate andiamo ad accertarci sulla posizione in cui abbiamo messo il nostro microfono di misura di quali siano le riflessioni molto spesso un ascolto diretto ci aiuta a comprendere perché il nostro software di misurazioni continua a darci valori particolarmente interessanti diciamo se non effettivamente sbagliati per velocizzare le vostre misurazioni è il caso di suddividere il vostro sistema in sottosistemi non è necessario sia un impianto particolarmente complesso anche soltanto left right sub e front sono già quattro sottosistemi che accelerano notevolmente le vostre capacità di misurazione e quindi di analisi della situazione a proposito di sub se avete particolari difficoltà di allineamento o di misurazione del loro ritardo un suggerimento pratico ed efficace è posizionare a fianco del sub più prossimo al vostro microfono di misura un piccolo diffusore full range di dimensione anche non esagerata e neanche di livello sonoro di pressione sonora particolarmente elevato giusto per misurare appunto il ritardo di questo diffusore che si è posizionato per terra a fianco al sub esattamente combaciante per cui contro il sub stesso e con la griglia rivolta nella stessa direzione vi aiuterà molto in questa fase piuttosto delicata abituatevi poi a prendere diversi capture diverse fotografie del vostro sistema dei vostri sottosistemi per poter confrontare i parametri in maniera comoda in qualunque momento soprattutto senza bisogno di avere l'impianto continuamente acceso magari la vostra finestra temporale di suono di volume adeguato alle misurazioni non è così ampia rispetto al numero di parametri che volete prendere in considerazione e una volta che avete popolato di snapshot il vostro software di misurazione andate a confrontare queste fotografie con quanto il software di progettazione vi stava suggerendo di modo da verificare se effettivamente ciò che avete pensato di ottenere è ciò che siete riusciti a portare a casa e anche magari confrontare per comprendere quali sono le differenze e per quale ragione le state riscontrando e per finire avete riscontrato che tutto quadra il vostro progetto sulla carta era adeguato e anche nella misurazione relativa all'ottimizzazione siete riusciti a ottenere il risultato più soddisfacente bene usate comunque le vostre orecchie per decidere se è effettivamente soddisfacente ricordatevi che i software sono dei programmi sono le persone con i loro cervelli con le loro orecchie che riescono a comprendere se quanto vedete sullo schermo è anche adeguato e piacevole altrimenti un perfetto quadro surreale non è detto che sia effettivamente ciò che volevate portare sul campo e a proposito di verifiche finali provate anche a spegnere gli equalizzatori e fate un ascolto a b giusto perché non è detto che tutte le correzioni di equalizzazione suggerite dai vostri software sia di progettazione che di misura siano effettivamente quelle necessarie magari talvolta hanno cercato di correggere dei problemi che non sono effettivamente presenti nella location in cui siete andati ad installare insomma fidatevi delle vostre orecchie oltre che di quanto avete appreso e imparato sui software che state sfruttando in chiusura mi auguro abbiate se avete trovato interessanti gli argomenti trattati in questo video invito a vedere anche gli altri video presenti sul canale buona visione Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!